Ciao a tutti, sono Simone, sono il creatore di questo strumento meraviglioso, questa è una grande, molto amministrazione, perché è fatta da metallo e perché è molto strato, per me è molto possibile fare un tono molto preciso, e questa fluta ha anche alcuni strumenti speciali, come potete aggiungere il tuo 3rd index finger, dal tono occidental, subendo a 3 quarti note, come musica arabica, e questo ring non fa nessuna complianza, non è semplice, non fa nessuna differenza, è molto facile da giocare con, e anche un altro strumento speciale è che puoi avere anche questo piccolo hole qui, per darvi il finger pinchi, quindi puoi avere con questo, una scala full chromatic scale, ok, so you can play full range of macams, e anche, può dare il 4th pitch, without any problem, effortless, ok, and is very tuned, so let's hear now the 4th, 4th pitch, pitch, so we are, and is easy to make it, very easy, another thing is, again, the pinky finger, player, is for more for pros, ok, for pro advanced player, I'm not that advanced, but I can try to make you hear this note, ho, oh, 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 oh… and let's hear now the three-quarter sound so we have normal normal occidental and let's make it three-quarter so let's hear the sound so hope you like it and if you want to have an unbreakable instrument very very precise tuning with special features as well or just classic instrument and with as well special carvings on it just write to me I'm Simone and I will be very happy to answer all your questions thank you very much